la mia villa più il mio allevamento e a un certo punto mi sono trasferito e nel mio trasferimento nonostante avessi questi cani che al campo di addestramento si parte che si comportavano bene io li volevo bene eccetera eccetera ma avevano delle prestazioni non indifferenti laggiù dove ho iniziato a lasciarli da soli e per da soli vuol dire che io non ero presente che non ero il loro conduttore che dormivo perché di notte dovevo dormire che ero distratto eccetera eccetera hanno iniziato a non essere ecco come voi adesso a non essere quei cani che io volevo senza non togliere a queste due razze non mi interessa minimamente il confronto parlo del passato è probabile che altri che hanno cani di questa razza invece funzionano io racconto solo la mia esperienza fatto sta che tormentando ogni giorno come a volte fanno con me i miei clienti il mio quello che era allora il mio addestratore lui a un certo punto forse perché si era stufato mi ricordo che un giorno mi dice guarda secondo me tu devi proprio cambiare tipologia di cani ma allora non avevo ancora la pallida idea la grande differenza che c'è tra i cani da gregge fra quelli che chiamati anche cani da gregge servono per condurre il bestiame quelli che storicamente come questi hanno sempre custodito in modo autonomo il bestiame la differenza che c'era fra i cani facilmente addestrabili e quelli no e tante altre cose semplicemente lui mi dice guarda io domani sera mi diede un indirizzo dice vieni a casa mia ti faccio vedere un cane è una femmina e secondo me questo tipo di cane o meglio questo tipo di guardiano è quello che cerchi tu allora mi ricordo che andai erano tanti anni fa il cane era legato a una catena molto lunga e c'era un motivo e io mi resi subito conto di due cose che il pastore dell'asia centrale che io vedi allora era uno dei cani più brutti ho visto tant'è che quando tornai a casa di si guarda ho visto un cane carattere pazzesco ma non saprei neanche descriverte lo disse in famiglia di sia mia moglie perché non so perché mi viene in mente sembra sembra quello lì era bianco che abbia incrociato ma rimane abruzzese un aschi in più non ha le orecchie in più non ha la certo è che se le femmine sono in quel modo chissà come saranno i maschi poi voglio bypassare tutta una parte di storia mia dei miei pastori dell'asia centrale che chi ha letto i miei libri chi mi segue da tempo conosce e voglio subito venire a bomba a quello che è l'argomento che vorrei trattare in questo video tra l'altro in questo video userò lo stesso sistema che non è quello di far tanti video che è una cosa veramente massacrante per me o tante altre cose da fare ma è quello di fare un video lungo come sto facendo ultimamente poi lo divido a pezzi quindi ovvio che questo video a un certo punto si interromperà in ogni puntata sarete interrotti immediatamente inutile che mi scrivete nei commenti se fermato eccetera perché è tutto previsto poi giorno dopo due giorni dopo quant'è pubblico un'altra puntata e anche questo per evitare di fare quello che io ho fatto in tutti questi anni di fare la marchetta no seguo questo video imparo quello che mi interessa poi me ne vado altrove io voglio crearmi delle persone che mi seguono voglio crearmi delle persone come ho creato in questi 25 anni che se hanno preso un cane da me c'è un motivo che va al di là di quello che può essere l'estetica ma vi parlerò specialmente di queste tipologie perché questo che vi vorrei far capire in dettagli tutto il resto sulla funzionalità ne trovate quanti volete di conseguenza non so più dove ero rimasto comunque mi ricco ecco mi sto ricordando che quando venni a casa iniziai a parlare di questo cane e non sapevo neanche descriverlo fatto sta che mi ricordo quella notte non dormi uno perché finalmente pensavo di poter iniziare a risolvere il problema che aveva la guardia prima con quegli altri cani come li trasferi in questa grande proprietà non facevano nulla di ciò che io volevo invece quando c'ero io erano cani per quanto magari alcune di queste razze poi possano aver creato dei problemi loro mi leccano ovunque io adesso sono tormentato ovviamente dalle mosche e man mano che passano i minuti è sempre peggio però era per farvi vedere non a caso vi ho voluto fare questo video sui pastori della centrale con proprio con questi cuccioli sbarra cuccioloni hanno sui sei mesi